Il no dei comunisti alla riforma della Costituzione, un incontro a Reggio Calabria con il segretario regionale Michelangelo Tripodi, il servizio di Pino Guglielmo. No al referendum, lo dice il PC in tutta Italia, è uno slogan che viene confermato anche in Calabria. Sì, noi diciamo no perché riteniamo che questo referendum, questa riforma della Costituzione riduce la democrazia, non supera il bicameralismo, non riduce i costi della politica e soprattutto sottrae la sovranità che appartiene al popolo come recita l'articolo 1 della Costituzione. Diretto e chiaro il messaggio di Michelangelo Tripodi, segretario regionale del Partito Comunista Italiano in Calabria. Occorre respingere l'aggressione del governo Renzi il 4 dicembre, con il no possiamo fermare questo disegno oppressivo, difendere la scuola pubblica, salvare la Costituzione e fermare lo scempio della democrazia. Non è vero che si riducono i costi della politica e che si semplifichi il processo legislativo, afferma ancora Tripodi. È vero invece che la sovranità popolare è azzerata e che il Senato continua ad esistere ma viene cancellato il diritto del popolo ad eleggerlo a suffraggio universale. In tal modo il potere politico viene consegnato ad una minoranza di privilegiati. Con la riforma della Costituzione e con la nuova legge elettorale si depenna la democrazia. Ha concluso il segretario provinciale del PC Lorenzo Fasci e la stessa logica autoritaria e aziendalista della legge 107 che sta devastando la scuola italiana. Grazie a tutti.